Infortunio sul lavoro a Milano costato la vita due operai, un terzo ricoverato in codice rosso al Niguarda. Da una prima ricostruzione la piattaforma aerea utilizzata per la potatura di un albero si è spezzata e i tre uomini alloggiati sul cestello sono precipitate da un'altezza di circa 15 metri. A perdere la vita schiacciati dal cestello sono stati due operai di 51 a 69 anni. La procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose. Il magistrato ha disposto l'autopsia e il sequestro del macchinario sul quale sarà eseguita una perizia per accertare le cause del crollo.